Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi sabato 23 marzo 2019 siete su Fano TV il canale è il 17 e la diffusione è su tutta la regione Marche buongiorno partiamo dal salto del giorno poi vediamo il tempo e i giornali il santo di oggi è San Toribio Alfonso de Mogroveio nato in Spagna nel 1538 il sole è sorto alle 6.06 tramonterà le 18.24 magari una foto più bella sarebbe stata meglio allora andiamo a vedere il tempo dicevamo il tempo per oggi sarà un cielo sereno con venti soltanto di brezza tesa nord occidentali ma per il resto sarà una giornata di sole pieno da vivere possibilmente all'aria aperta e poi domenica domenica 24 marzo avremo un cielo sereno con debole addensamenti comuniformi solo sulle vette appenniniche più alte soprattutto nelle ore centrali della giornata e poi il peggioramento che arriva invece per lunedì 25 quando in nottata avremo carattere avremo precipitazione carattere di rovescio soprattutto a nord della regione Marche quindi nel pesarese e soprattutto negli estremi settori settentrionali appunto sia sulla costa che nell'entroterra le temperature sono in aumento per quanto riguarda la prossima settimana avremo un peggioramento per la giornata di martedì con un calo termico poi la successiva evoluzione è ancora molto incerta secondo quanto scrive nel bollettino meteorologico la protezione civile delle Marche e al momento attuale sembrerebbe possibile un miglioramento già dalla giornata di mercoledì dunque soltanto una breve pausa con un po' di pioggia andiamo adesso a leggere i quotidiani il Corriere Adriatico il resto del Carlino ovviamente ci soffermeremo sulle pagine di Pesaro e Urbino cominciamo dal Corriere Adriatico dove la notizia in primo piano è quella che dopo la scuola dei pesaresi ovvero l'istituto delle piccole ancelle del Sacro Cuore che si trovava in via Cesare in viale Cesare Battisti che ha lasciato il posto ad una palazzina ancora in fase di edificazione verrà demolito anche un altro luogo simbolo della Pesaro della devozione qui più che devozione insomma della fede l'ex convento delle suori di via Guidi nel cuore del centro storico pesarese a centro pagina invece l'accordo che è stato firmato a Roma il presidente della regione Marche Luca Ceriscioli per quanto riguarda i voli diretti per Shanghai dall'aeroporto di Falconare dall'aeroporto delle Marche i cinesi che cosa dicono perché hanno voluto stringere questo accordo perché sono rimasti affascinati dalle nostre università dai cinesi lodi per gli atenei marchigiani con voi formazione e ricerca al top e poi sulla prima pagina del Corriere il city brand di Fano reca l'impronta di Vitruvio lo vedremo tra un istante è stato presentato ieri al pubblico nella sala verdi il city brand della città della fortuna frutto di un percorso concettuale che nel corso di tre anni a partire dunque dal 2016 ha conosciuto tre fasi e si è giunti all'identificazione di quello che la città vuole promuovere di se stessa e alla redazione di un elaborato grafico quindi il logo cioè quel identificativo che dovrebbe fare il giro almeno ci auspichiamo il giro dell'Italia e del mondo ma sul Corriere di oggi e di domani vedete sotto la testata c'è il doppio inserto che riguarda il Papa il Papa che farà visita a Loreto il prossimo 25 di marzo quindi siamo ormai a ridosso di questo evento evento per quanto riguarda la città di Loreto si parlerà in questi inserti oltre di tutto il programma del programma che ha in che ha in agenda il pontefice ma anche delle cose pratiche che riguardano i loretali non solo perché i parcheggi gli orari i pass e quello che c'è da sapere insomma è tutta una serie di inizi di informazioni utili e poi sulla prima pagina in richiamo all'omicidio di San Lorenzo in campo sono state eseguite due piste la rapina e i prestiti di soldi autopsia congelata per compiere altre verifiche nella casa sono stati trovati 15 mila euro e diverse cambiali e poi lo sport con la VL affamata c'è la sfida di Bologna affamata ovviamente di vittorie e di punti questa è la pagina invece del resto del Carlino di Pesaro a centro pagina tutta loro la città stati generali dei giovani la parola agli under 20 tanniche di benzina per punire la ex moglie partito dal lussemburgo per la vendetta è stato arrestato dai carabinieri affano l'ultimo saluto a paolo ciao eri pieno di vita e poi sul progetto sul progetto della nuova questura l'ex intendenza slittano i lavori ma la notizia tragica di una morte una morte che riguarda una neonata e che ha scosso Fano una tragedia nuova tragedia per la famiglia Monaldi dopo l'addio a Jacopo a soli 24 anni addio a paolo eri pieno di vita questa è la pagina di Fano del Carlino folla commossa all'addio del 41enne trovato morto paolo Pedini Boni il cameriere è trovato morto di 41 anni sulle scale della chiesa di Sant'Agostino in via Vitruvio durante la notte tra lunedì e martedì nella chiesa di San Giorgio di Pesaro in tanti hanno voluto prendere parte partecipare al rito funebre il paese ha voluto unirsi al dolore dei genitori Carlo e Chiarina del fratello Emanuele della compagna Valentina di Otallevi poi all'uscita del Feretro c'è stato un lungo applauso ma dicevamo di questa terribile notizia che purtroppo ha riportato e ha fatto ripiombare ancora nel dolore la famiglia Monaldi a distanza di poco tempo dalla morte del giovane giovane di appena 24 anni che era morto per la causa di un incidente è un destino crudele quello che continua ad accanirsi contro questa contro la famiglia Monaldi scrive così il resto del Carlino a poco più di due anni dal fatale incidente in moto che è costato la vita al 24 anni Jacopo un nuovo lutto un dolore inimmaginabile che ha colpito di nuovo la famiglia una neonata a soli due giorni di vita e purtroppo non ce l'ha fatta era nata il 12 marzo all'ospedale di Fano poi è stata portata a Rimini tutti i dettagli nel pezzo di oggi nel giornale di oggi sul resto del Carlino la pagina di Fano invece è nato il city brand eccolo qua il logo non so se vi piace non so cosa ne pensiate voi di questo logo che è stato presentato dal sindaco Massimo Serri dall'assessore Marcheggiani ieri c'è stata la presentazione alla Sala Verdi è un elaborato in tre fasi che come dicevamo è partito dal 2016 riassume le identità di Fano comunque questo è il logo fateci sapere se vi piace oppure no la copertura invece al Mancini è pronta eccola qui la vedete in questa fotografia non è male è bella certo il ritardo due mesi di ritardo scrive il Corriere questa mattina il nuovo tetto della tribuna è pronto esattamente due mesi dopo la data del 23 gennaio originariamente fissata per la fine dei lavori e a diverso tempo di distanza in più da quando l'estate scorsa prima ancora che in testa agli amministratori comunali cadesse la dichiarazione di inagibilità della gradinata era emersa la necessità di sostituire la copertura che mostrava sempre più evidenti segni insomma del mezzo secolo di vita poi la cronaca con il questo stalker che è finito in manette che voleva fargliela pagare la ex moglie anche la figlia insomma era partito guardate qui quanti chilometri ha fatto più di mille chilometri il viaggio della follia da Lussemburgo fino a Marotta dove appunto avrebbe così come ha detto lui avrebbe dovuto scatenare un po' di caos i parenti intanto dell'uomo avevano avvisato avevano detto attenti sappiamo che sta venendo giù in Italia andrà di certo dalla ex moglie e dalla figlia insomma questo 46enne originario di Sassoferrato autotrasportatore ma residente da anni in Lussemburgo è stato arrestato per atti persecutori e danneggiamenti una settimana fa venerdì dai carabinieri di Fano dopo che aveva fatto irruzione nel negozio di abbigliamento della figlia Marotta è stato armato di mazza insomma mille chilometri queste le taniche di benzina che aveva dentro la macchina credo che fossero ancora piene questo è da capire forse perché la costa meno ma comunque l'inquietante precedente accaduto nel sud Italia è avvenuto solo due giorni prima l'altro stalking dicevamo di questo 42enne di Ercolano di Napoli che aveva tentato di uccidere la moglie Maria Antonietta Rositani 42 anni dandole fuoco dopo averle corso passo addosso del liquido infiammabile insomma questo è precedente appunto di due giorni fa e questa è l'altra storia insomma queste spedizioni punitive tutte queste vabbè interrogati tutti i debitori qui siamo sulla valle del Cesano del Corriere Adriatico gli inquirenti seguono le piste della rapina del generato e dei prestiti di denaro congelata l'autopsia per compiere accertamenti ci sono stati anche nuovi sopralluoghi nella casa nell'abitazione di Sesto Grilli sono stati trovati dagli inquirenti 15 mila euro diversi cambiali stiamo parlando dell'omicidio di San Lorenzo in campo il pensionato lo ricordiamo dopo una serata con gli amici aveva fatto rientro a casa intorno alle 2.10 giusto il tempo di spogliarsi per mettersi a letto e si è ritrovato con i malviventi che gli si sono presentati alla porta e poi di lì lo hanno legato imbavagliato alla sedia e poi è morto adesso bisognerà capire dall'autopsia se è morto per le percosse oppure per infarto o qualunque altro motivo lo scopriremo ce lo diranno gli inquirenti Grilli la prima rosa dei sospettabili scrive invece il resto del Carlino gli inquirenti stanno collegando gli interessi incrociati e un possibile movente questo il resto del Carlino ricorda come nel 2017 i ladri avevano rubato circa 40 mila euro dalla cassaforte di Grilli è un furto che in qualche modo lo aveva allarmato negli anni e nei mesi successivi però non tanto da fargli cambiare attività cioè quella di prestare i soldi a chi glieli chiedeva con interessi che sfioravano tassi usurari come sospettano perlomeno adesso gli inquirenti e forse in questo tipo di contatti potrebbe celarsi la chiave di volta di questo brutale omicidio ieri è stato scoperto il monumento dedicato a Filippo Montesi ha partecipato a questo importante appuntamento anche il comandante della brigata San Marco il contraammiraglio Cesare Bruno Patrignani che ha incontrato ieri pomeriggio anche la signora Maria Sorcinelli la mamma di Filippo Montesi il marofanese morto in seguito alle ferite riportate in Libano il 22 marzo di 36 anni fa insieme al comandante Patrignani c'era Petrignani scusate c'era anche l'ammiraglio Pio Bracco presidente dell'associazione marinai d'Italia la scultura è stata voluta da questa associazione proprio dei marinai d'Italia di Fano e poi un logo per innamorarsi di Fano il resto del carino pubblica una foto da una prospettiva un po' più dritta, frontale, migliore certamente così riusciamo a vederlo anche meglio è un logo per appunto sperare che molti si innamorino di Fano oppure si incuriosiscano di questa nostra città presentato il city brand che promuoverà la città in Italia e fuori identità affidata ad un marchio che stilizza l'arco d'Augusto e poi dalle pagine interne ancora del Corriere Adriatico reddito di cittadinanza e quota 100 così ripartono lavoro ed economia Marta Ruggeri stima tra 10 e 20 i milioni iniettati in provincia oggi c'è un incontro con il senatore Daniele Pesco un incontro che appunto si terrà nella città di Fano e poi sotto scontro sulla Adriatica, sulla Statale 16 un tamponamento, il traffico è andato in tilt gravi disagi ieri mattina, tante code, tanta gente arrabbiata nel pomeriggio un pedone invece è stato falciato da un'auto in via Pertini si tratta di un pensionato di 74 anni andiamo a Pesaro, ruspe pronte per il convento appartamenti nel suo futuro variante al piano regolatore per consentire l'abbattimento dell'istituto religioso di Via Guidi da tempo chiuso dovranno essere tolti i vincoli l'opposizione però attacca si cancellerà un'altra memoria della città agli orti giuri invece sempre a Pesaro il tesoro scelto del FAI preso di mira dagli imbrattatori scritte e freggi nello storico giardino che oggi e domani sarà aperto alle visite Ricci presenta la sua Pesaro una full immersion fino a sera oggi c'è il future day tra i partecipanti Ciotti, Alaimo, Romei, Primori e Magnini sarà invece in video dunque un appuntamento che inizierà alle 9.30 con un discorso che sarà il suo manifesto di idee per la Pesaro dal 2000 che porterà insomma fino ai prossimi anni il futuro della città di Pesaro in questo evento elettorale per le feste in spiagge invece sempre a Pesaro spunta l'idea di deroghe e permessi una tantum incontro tra comune e questura la ricerca di soluzioni un sondaggio con gestori e operatori famiglie bevete l'acqua del rubinetto tutelate l'ambiente e risparmiate pure l'appello dell'amministratore delegato di Marche Multiservizi TV Roli intanto il potabilizzatore compie 40 anni largo tre martiri che cosa fare? ora c'è l'ipotesi dello sparti traffico è una rotonda quella di largo tre martiri a Pesaro che non sta facendo dormire sonni tranquilli soprattutto agli amministratori soprattutto in vista delle amministrative è una rotonda che crea disagio lo sappiamo l'abbiamo detto più volte per chi si reca verso nord ci sono tante file incolonnamenti mentre scorre un po' meglio sicuramente nelle altre arterie e adesso vedremo un attimo mentre Bettini Alessandro Bettini consigliere comunale di Forza Italia dice Matteo Ricci sindaco è malato di annuncite cento ne pensa e una ne fa il consigliere azzurro dice solo rattoppi e rotatorie da Pesaro ancora il Corriere Adriatico la foto di gruppo per il comandante toscano che ha visitato il comandante regionale della Guardia di Finanza per le Marche generale di Brigata Fabrizio Toscano che ha reso visita al comando provinciale della Guardia di Finanza di Pesaro e poi Fallani dottor Mauro Fallani nominato nuovo direttore nuovo primario del pronto soccorso del presidio ospedaliero stiamo parlando del pronto soccorso di Riccione Cattolica sostituisce Marina Gambetti e ancora per quanto riguarda gli sfalci non ritirati e qui siamo di nuovo a Pesaro Marche Multiservizi dice lunedì prossimo potrete esporre i contenitori dopo le proteste dei residenti di Muraglia sui ritardi del servizio di raccolta degli sfalci di erba verde e oro ieri è intervenuta Marche Multiservizi per spiegare un po' la situazione e poi le cronache le pagine interne delle varie ballate questa è quella della Valle del Metauro da Fossombrone 11 assunzioni in comune la minoranza prova ad opporsi la consigliera Cipriani lamenta la mancata sostituzione del personale del nido la Giunta vuole privatizzare anche quel servizio proposto di usare i fondi per l'Atari mentre da Cartoceto Longhi una lista civica per sfidare Enrico Rossi Enrico Rossi è l'attuale sindaco uscente si è dimesso Longhi da segretario del circolo PD e dice puntiamo su partecipazione e sociale un bed and breakfast invece pagato con il risarcimento è il futuro per gli orfani di Marianna Carmelo Calì ha adottato i tre figli della cugina uccisa dal marito lo Stato rivuole 259 mila euro lui dice non lo permetterò con il verdetto pro magistrati l'indennizzo andrà restituito poi Piscina chiuse le indagini corruzione abuso d'ufficio sindaco e assessori indagati Mangialardi dice non erano cene elettorali la rassegna stampa dunque del sabato finisce qua grazie per essere stati con noi vi auguro una buona giornata vi ricordo che stasera alle 20.30 così come domani sera alle 20.30 c'è Sette per Occhio Sette per Occhio è il magazine che raccoglie le notizie più importanti della settimana curato dalla nostra redazione ma per l'aggiornamento per tutte le notizie dell'ultima ora vi ricordo che c'è anche il nostro sito internet occhianotizia.it e il numero per le vostre segnalazioni lo avete appena visto 338 49 68 250 grazie per essere stati con noi a voi tutti l'augurio di un buon fine settimana grazie per essere stati con noi